Una venere moderna, volta da vesti antiche, da cui trasluce la femminilità matura e consapevole di chi è pronto a svolgere il suo ruolo nel mondo. Medico, madre, manager, moglie e compagna, professionista affermata, mente lucida di un cuore pulsante. E questa è la donna che celebra l'opera esclusiva creata per il premio Omnibus Salute Donne, ideata e modellata da Giancarle Leuterio, architetto designer, prodotta in maiolica da Simonetti Ceramica Artistica Castelli. La cerimonia di consegna dei premi Omnibus Salute Donne, edizione 2023, presentata dalla giornalista Grazia di Dio, si svolgerà sabato 28 ottobre nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara. Il riconoscimento è giunto alla sua seconda edizione. Quest'anno le premiate sono alcune, diciamo, nostre corregionali. C'è la dottoressa Ventura, che è una psicologa, psicoterapeuta, cofondatrice e presidente dell'associazione PEA, che è Psicologia Emergenza Abruzzo, allendra il riconoscimento per la progressione sanitaria. Poi c'è la dottoressa Maria Laura Di Loreto, che è la presidente della cooperativa Alfa di Chieti, che si occupa di tutelare la salute delle donne vittime di violenza. Poi abbiamo l'onore di ospitare la dottoressa Agnese Collino, che è il supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, nonché una nota divulgatrice scientifica, perché con un suo saggio, che si chiama La malattia dei dici centesimi, tratta della storia della poliomilite, un saggio che ha già vinto un premio importante ed è candidata a vincere un altro quest'anno. Infine, il premio speciale per meriti scientifici. L'anno scorso abbiamo avuto l'onore di conferirlo alla professoressa Anna Teresa Palamara, che è il direttore del Dipartimento di Manattia Infettiva dell'Istituto Superiore di Sanità. Quest'anno andrà la dottoressa Santuccione, che è originaria dell'Abruzzo, abruzzese, però vive e lavora in Svizzera ed è una neuroscienziata che si occupa di malattie neurodegenerative nelle donne. L'edizione 2023 del premio sarà possibile grazie all'impegno delle aziende che lo sostengono, in primis la Omnibus Salute, che ha messo in campo tutta la sua macchina organizzativa, la Mario De Cecco Confezioni, l'Istituto Acustico Maico e la FIMAS di Chieti.